Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo del bonus 200 euro ai pensionati. Infatti nelle ultime ore si è saputo che l'erogazione sarà automatica a luglio. Inoltre il bonus è stato confermato anche in gazzetta e quindi l'ufficialità è ormai certa. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. A sostegno dei pensionati con un reddito fino alla soglia dei 35.000 euro è in arrivo il bonus da 200 euro previsto dal decreto aiuti per compensare tutti quegli effetti economici che sono stati provocati dall'aumento dell'inflazione nell'ultimo anno. Il provvedimento prevede l'indennità una tantum in favore dei soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria di pensione a segno sociale di pensione a segno per i vari di civili sordomuti e ciechi nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. Il pagamento del bonus come dicevamo in apertura di video avviene con la prossima mensilità di luglio in automatico con l'inps che opererà d'ufficio. L'indennità è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta anche nel caso in cui tale soggetto svolga un'attività lavorativa. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie per la visione! Grazie per la visione!